Lui Gione, prontissimo Lui Gione, la zebra parlante, perché noi parlavamo prima di Gino Vox, tutti i suoi personaggi, noi abbiamo anche una zebra vera parlante che il nostro Lui Gione da Taranto nel club Lizzate di Juventus, saranno qua sabato prima di Pescara, lui dice che vuole illustrarci il tour de force che ci sarà dopo Pescara. Andiamo con la zebra? Andiamo con la zebra, vai! Da Taranto, Luigi Abate, la zebra parlante, Juventus Club Lizzano Bianconera e anche Juventus Club Doc Fratelli Bianconeri. Beh, alcune riflessioni in vista della ripresa del campionato e della gara con il Pescara di domenica prossima. Beh, sarà una fase decisiva, una lunga e fitta tirata fino appunto al Natale, alle festività del Natale. Abbiamo col Pescara, credo che la gara sia abbastanza abbordabile, tranquilli, i pescaresi non si scanseranno, amici della Gazzetta. Ma poi il calendario è davvero fitto, come dicevo, ed impegnativo. Basti considerare che avremo poi il Siviglia, avremo il Genoa, l'Atalanta, poi ancora la Champions, l'ultima con la Dinamo Zagabria, e poi ancora Torino-Roma e il Milan nella trasferta di Doha del 23 dicembre. Beh, è un calendario, dicevo, davvero tosto, davvero duro. Peccato per la condizione, per gli infortuni che stanno falcidiando la rossa, ma comunque sono moderatamente ottimista. La difesa, certamente, si farà sentire l'assenza di Barzagli, però poi abbiamo delle certezze, mi riferisco a Benatia, mi riferisco a Rugani. In attacco, non ci voleva la tegola per Dybala le altre tre settimane, i tempi lunghi di Piazza. Beh, è l'ora di lanciare Ken. Lanciamolo questo ragazzo, anche perché poi, chiaramente, Iguain e Mandzukic non è che possono giocare sempre loro in campionato e in Coppa. E poi, mister Allegri lo sta dosando bene Ken, oramai è maturo per l'esordio. Pensate un po', che gioiello Ken, ha soli 16 anni, esordio in Serie A. Davvero bravo. Per quanto riguarda poi il centrocampo, dobbiamo stringere i denti e dobbiamo arrivare fino a gennaio, fino alla riapertura del mercato. Lì, sicuramente, un bell'innesto potrà darci così quell'aiuto, quell'apporto importante. Per quanto riguarda la Champions, sinceramente, anche arrivare secondi non mi sconvolgerebbe, perché, se vedete bene, pur arrivando, se noi arrivassimo per ipotesi primi, tra le seconde potremmo trovarci il Real Madrid, il Bayern Monaco, anche il PSG. Sì, stiamo parlando, Manchester City, stiamo parlando di avversari tosti, per cui è relativo dire arriviamo primi o arriviamo secondi. Andiamo avanti. La Champions, poi, da febbraio-marzo sarà tutta un'altra storia rispetto alla fase a Gironi. E dobbiamo crederci, con un bell'innesto a centrocampo. E, vedete, mi sento tranquillo, perché la posizione in classifica e in campionato è ottima. Siamo primissimi, con quattro punti sulla seconda. In Champions, comunque, siamo praticamente qualificati. E l'altra cosa che mi dà sicurezza è che la società, la Juventus, a differenza delle altre squadre italiane, sa programmare. Pensate all'ottimo lavoro di scouting che stiamo facendo per i giovani, con opera di Marotta e di Paratici. Abbiamo il futuro sicuro, perché, ripeto, noi abbiamo la programmazione, gli altri l'improvvisazione. E una riflessione che mi permetto di fare. Si sta parlando, stanno correndo voci circa all'ampliamento dello stadio. Si parla di uno studio di fattibilità richiesto dalla società per portarlo a 56 mila posti e una voce. Sarebbe il caso, perché, credetemi, lo dico io da tifosi, io sono abbonato. Però pensate, 41 mila posti, 30 mila abbonati, ci sono 10-11 mila posti disponibili. E davvero i club, noi come club, impazziamo per trovare i biglietti e soddisfare le esigenze degli iscritti, dei tifosi. Allora ampliamo questo stadio. Non so, con un terzo anello, poi gli studiosi, gli ingegneri, gli architetti sapranno loro cosa fare. Ma 41 mila è un po' poco. E questo sapete perché? Perché noi ora siamo una realtà fortissima anche in Europa. 41 mila non bastano. L'affetto di noi tifosi fa davvero scoppiare la capienza dell'attuale Juventus Stadium. È tutto da Taranto, Luigi Abbate, la zebra parlante, Juventus Club. Eccolo qua, eccolo qua, il nostro Luigione. Capienza esatta, 41 mila 507. 41 mila quasi 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 42. Sì, tanti ci scrivono che vorrebbero uno Juve Stadium più capiente.